... Emergenze a migranti, vertice del lanci con tutti i sindaci, due modelli a confronto. Spazi di sosta, il sindaco Giacomo Possamai lancia un monito al gestore. Sicurezza, l'ex sindaco Ruco critico con l'amministrazione di centro-sinistra. Vede la polizia e ingoia ovuli di cocaina, pusher arrestato ed espulso. Valle dell'Agno, controlli dei carabinieri per la repressione dei reati di strada. PNRR, Gerardi dice, i progetti vicentini non sono a rischio. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori. Ben ritrovati all'appuntamento con TG Vicenza, lo avete visto dai nostri titoli. In apertura parliamo dell'emergenza migranti. Ebbene, in Veneto, l'Anci chiama a raccolta tutti i sindaci. Sbarchi continui, l'immigrazione è un'emergenza, la gestione dei flussi è il tema più caldo dell'estate in Veneto. Il sistema è sotto pressione e l'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, questa sera chiama a raccolta tutti i sindaci del Veneto per un confronto serrato. Anci Veneto ha organizzato oggi una call perché ci si possa confrontare direttamente. Il problema dell'accoglienza degli immigrati in Italia credo travalichi un po' quella che è la discussione tra hub e accoglienza diffusa. Sono argomentazioni e discorsi che devono essere trattati dal punto di vista governativo, non certo dei sindaci, che sicuramente si mettono a disposizione per discuterne, però non è un argomento propriamente amministrativo dei sindaci. Nel Vicentino il tema dell'accoglienza è particolarmente esplosivo dopo che ai primi di luglio gruppetti di migranti sono stati lasciati davanti ai municipi di Altavilla, Sovizzo, Cornedo, Gambellara e Castelgomberto. Oggi ci sono due modelli a confronto. L'accoglienza diffusa in una proporzione di tre migranti ogni mille abitanti oppure creare hub regionali o provinciali, dove invece i migranti verrebbero riuniti in un unico posto. Personalmente ritengo che l'accoglienza diffusa sia più efficace e possa essere gestita meglio. Dobbiamo dire che un hub provinciale crea un grande affollamento all'interno di un'unica città, ma però durante il giorno queste persone comunque si propagano anche nei comuni con termini. Il fatto di avere invece un'accoglienza diffusa pone in essere intanto una sinergia e quindi un lavoro di squadra di noi sindaci e quindi ognuno ci graveremo di un qualcosa, però sicuramente sarà più facile sorvegliare e gestire queste persone. Spero, credo che oggi l'Assemblea di Anciveneto si verrà ribadire questo, non assoluto totale agli hub, alle grandi concentrazioni di migranti nelle città e nei comuni veneti, ma piuttosto il privilegio di un sistema di accoglienza diffusa, quindi di una divisione di questi richiedenti asilo tra le tante realtà, tra i 563 comuni del Veneto, come prevede tra l'altro il protocollo firmato dal presidente Zaia con il presidente di Anciveneto, Mario Conte. I sindaci veneti stasera sono chiamati a un confronto, a dire la propria, perché poi nel concreto tocca ai comuni trovare gli spazi. Insomma, meglio gestire i flussi perché l'alternativa è subirli. Ma oggi la spinta dei profughi dalla grande Africa è sempre meno gestibile per la piccola Europa. Anche questo è un tema fino a quando arriveranno i migranti. Solo il 30% di queste persone che arrivano in maniera qui in Italia un po' avventurosa hanno poi diritto di rimanere in Italia perché hanno delle necessità, corrono dei pericoli nei loro paesi. Significa che il 70% di queste persone dovrebbe tornare da dove arriva, a casa sua. Quindi ci troviamo nel paradosso che sprechiamo risorse e allo stesso tempo le togliamo a persone che effettivamente sono in pericolo, che effettivamente ne hanno bisogno. Questo dovrebbe farci pensare, riflettere, perché il buonismo, spesso volentieri, non fa veramente il bene e anzi danneggia chi effettivamente ha bisogno. Parliamo adesso di posteggi, di spazi di sosta. Ebbene, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, lancia un monito ben preciso. Un cambio di passo o potrebbero scattare le sanzioni? Il sindaco di Vicenza lancia un monito alla società che gestisce gli spazi di sosta in città. Con una nota particolarmente dettagliata, Giacomo Possamai chiede che siano portati a termine gli investimenti previsti entro il 31 di agosto. Risposte che chiediamo al gestore della sosta che ha promesso investimenti importanti in città, sui parchimetri, sui parcheggi. Penso all'implementazione del sistema Telepass, ma anche sulle tecnologie, quindi sulla possibilità di avere pannelli informativi sui posti liberi in città per evitare ai cittadini di perdere tempo cercando posti inutilmente. Sono investimenti non soltanto promessi, ma garantiti da un contratto che chiediamo che vengano messi a terra. Ad oggi sarebbero diversi gli interventi che il Comune si aspetta, soprattutto per quanto riguarda l'implementazione tecnologica e l'attivazione di nuovi servizi. La lettera quindi è un richiamo formale che fa riferimento anche alla possibile penale di 1000 euro al giorno fino al terzo mese di ritardo, dopodiché potrebbe scattare la risoluzione del contratto. Il contratto dice che dal primo di settembre c'è un'ipotesi di penale di 1000 euro al giorno per i primi 90 giorni e poi si può arrivare alla risoluzione del contratto. È chiaro che nessuno vuole arrivare alle maniere forti, chiamiamola così. Noi vogliamo semplicemente che siano rispettati gli impegni. La lettera al gestore degli spazi di sosta è stata mandata il 3 agosto. Il Comune di Vicenza è ancora in attesa di una risposta, ma quello che è stato lanciato è quasi un ultimatum. È ormai quasi un ultimatum perché manca molto poco alla scadenza, il 31 di agosto, entro il quale dovevano essere fatti questi interventi. Però chiediamo al gestore della sosta risposte e le chiediamo formalmente. Critica alla sicurezza. Chi la fa è l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, preoccupato per il degrado in città. Allarme e sicurezza a Vicenza. Sotto l'effetto della droga aggredisce una donna e danneggia una volante della polizia. Succede a Monteberico, protagonista un marocchino con vari precedenti che ha ricevuto dal questore un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Questo è l'ultimo episodio capitato in città, però per il consigliere comunale, Francesco Rucco, è un cattivo segnale. Sono fatti spiacevoli che si stanno ripetendo con una frequenza maggiore rispetto al passato. Si nota sicuramente sul territorio, lo notano i cittadini perché ce lo dicono tutti i giorni, una minore presenza delle pattuglie della polizia locale, delle squadre antidegrado e soprattutto antidroga. Questo ha permesso a molti di allargarsi in alcune zone della città, quindi non solo nel centro storico ma anche nei quartieri più limitrofi e sta determinando molta preoccupazione tra i cittadini. La preoccupazione è che ci sia uno smantellamento in corso delle forze di polizia locale rispetto a quelle funzioni che noi abbiamo voluto fortemente e che contrastavano il fenomeno del microspaccio, del degrado e soprattutto anche della micro delinquenza. L'ex sindaco di centrodestra critica la gestione della sicurezza in città con l'amministrazione di centrosinistra. Francesco Rucco si augura che ci sia un giro di vite per scongiurare un liberi tutti. Una sorta di libera tutti come abbiamo visto nella fontana di Piazza Garibaldi piuttosto che ai giardini salvi con le nuotate da parte di alcuni sbandati. È importante però stabilire come lo dicevo anche a suo tempo, non possiamo tutto attribuire all'amministrazione comunale ma anche alle norme che devono essere cambiate rispetto al principio della certezza della pena. È fondamentale ridurre i tempi per le espulsioni, ci vogliono accompagnamenti coattivi certi, cioè quando si portano nei centri di espatrio poi devono essere espatriati e devono essere rimandati a casa. Questo per quanto riguarda pregiudicati e chi commette atti delinquenziali nei confronti dei nostri concittadini. A proposito di sicurezza, apriamo la pagina di cronaca, è stato arrestato e subito espulso. Uno spacciatore nigeriano aveva ingoiato le dosi di cocaina per occultarle ai poliziotti. Alla vista degli agenti aveva tentato di inghiottire alcuni invologri di celofan, ma il gesto nervoso dell'uomo che li aveva estratti rapidamente da una tasca ha insospettito i poliziotti che lo hanno fermato. È stato individuato così il pluripergiudicato 37enne di origini nigeriane che aveva tentato di far sparire alcuni ovuli di cocaina, ingoiandoli. L'uomo si trovava all'interno del parco Fogazzaro nella prima serata di ieri. Gli agenti della sezione volanti che lo hanno arrestato hanno poi condotto l'uomo in questura per ulteriori accertamenti. Negli abiti sono stati rinvenute altre dosi dello stesso stupefacente e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati. Un'altra pattuglia ha poi eseguito una perquisizione al suo domicilio nel quartiere San Lazzaro, in collaborazione con il nucleo cinofili della Guardia di Finanza. Grazie al fiuto del cane antidroga e delle fiamme gialle sono stati rinvenuti complessivamente circa 3,5 grammi di eroina suddivisi in 17 involucri e circa lo stesso quantitativo di cocaina contenuti in 20 ovuli di celofan termosaldati. Sull'uomo inoltre dal 2019 pendeva un ordine di allontanamento dall'Italia disposto dal questore di Roma. Il nigeriano era stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino. Anche in quell'occasione aveva ingerito ovuli di cocaina, ben 138. Visti i suoi gravi precedenti, dopo la convalida dell'arresto, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha subito disposto nella stessa serata di ieri l'accompagnamento dello spacciatore al centro di Roma per essere immediatamente rimpatriato al suo paese con il primo volo disponibile. Ci spostiamo adesso in Valle dell'Agno. Controlli straordinari dei carabinieri. Sicurezza nella Valle dell'Agno. Controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri per la repressione dei cosiddetti reati di strada. 14 militari suddivisi in sei pattuglie hanno battuto a tappeto la notte scorsa le aree operative più sensibili nei comuni di Montecchio Maggiore, Valdagno e Arzignano. Particolare cura la vigilanza delle alte di Montecchio, della zona Maglio e Nuvale a Valdagno e i parchi di Arzignano. Il bilancio dell'operazione, che è durata fino alle prime luci del mattino, ha visto a Montecchio la denuncia a piede libero per un cittadino nigeriano per furto aggravato di due biciclette. A Valdagno la segnalazione amministrativa di quattro ragazzi trovati in possesso di due grammi di hashish. 23 i veicoli controllati, elevando tre sanzioni per reati al codice della strada e l'identificazione di quattro persone intente a prostituirsi sulla pubblica via a Montecchio. Parliamo adesso dei fondi PNRR per i progetti a Vicenza. Il ministro Fitto lo ha dichiarato in aula che tutti i progetti saranno garantiti. Cambia la forma di finanziamento, ovvio vanno perfezionati alcuni filoni di finanziamento con l'indirizzo del governo, ma tutti i progetti sono garantiti, tutti i progetti possono andare avanti. Quindi non capisco perché non si proceda e non si mettono a terra questi importanti investimenti. Se questa è l'occasione per cambiare il volo della città, non vorrei mai che diventasse l'occasione per fermarsi e perdere il nuovo treno come al solito a Vicenza. Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia rassicura così i sindaci dei comuni vicentini che la scorsa settimana avevano espresso forte preoccupazione per i progetti già approvati con i fondi del PNRR, ma di cui non erano ancora stati avviati i cantieri. Gerardi è fiducioso di quanto dichiarato in aula dal ministro Fitto e rilancia rivolgendosi direttamente all'amministrazione comunale di Vicenza. Quindi nessun progetto è definanziato, semplicemente cambia la fonte di finanziamento. Quindi è una cosa completamente diversa. Io per questo sono qui a chiedere all'amministrazione se è stato fatto un check, un controllo dei progetti che abbiamo lasciato in eredità. Progetti che alcuni dovevano anche partire con i cantieri quest'estate, ma non vedo nessun tipo di cantiere a partire, ma soprattutto nemmeno l'ombra di una dichiarazione. Quindi chiedo all'amministrazione, e ripeto, senza cercare scuse con chi dite al vostro governo come mi è stato risposto nei giorni precedenti, ma chiedo, è stato fatto un check vero e proprio per sapere a che punto sono i cantieri. A Vicenza sono 78 i progetti interessati, quelli sulla rigenerazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici pubblici, tra cui le scuole, la mobilità sostenibile e la riqualificazione del verde pubblico. Per Gerardi non ci sarebbero problemi per i circa 30 milioni di euro mancanti, oggetto del definanziamento del PNRR deciso dal governo. Opere per cui l'ex assessore ha lottato, credendoci durante l'amministrazione Rucco. Tutti i progetti sono importantissimi, ovvio, ci tengo particolarmente per quello di Campomarzo, perché ci ho lavorato sia nel reperire le somme che nel sviluppare il progetto. È importantissimo perché può cambiare il biglietto da visita della città fuori dalla stazione. Serve, è fondamentale, per dare nuova vita e riappropriarsi di quello spazio. Quindi quello è uno, ma tutti i progetti legati all'ex PNRR in questo caso o al PNRR meritano il massimo impegno. È stato un grandissimo lavoro portare a casa e riperire i fondi, ora vanno messi a terra e va data una risposta alla città dopo anni di mobilismo. E questo era l'ultimo servizio dell'edizione odierna di TG Vicenza. Prima di salutarci, come sempre, vi ricordo la programmazione con il focus alle 21.15 insieme al nostro direttore Luigi Bacialli. Gli ospiti di questa sera saranno Leopoldo Botero, Fabio Chies, Silvana Golisciani, Barbara Guidolin, Leonardo Padrin, Gianfranco Perulli e Domenico Presti. Adesso è davvero tutto, non mi resta, come sempre, che ringraziarvi per aver scelto la nostra informazione e augurarvi buona serata.